40.400 posizioni di lavoro dipendente in più, a tanto ammonta il saldo occupazionale del primo trimestre 2016. In Veneto la bussola del mercato del lavoro di maggio segnala una ripresa occupazionale, nonostante una diminuzione delle assunzioni, dato previsto dopo il ridimensionamento degli sgravi fiscali garantiti all'azienda nello stesso periodo del 2015. Positivi anche i dati sulla disoccupazione, che nell'ultimo anno, secondo l'Istat, è scesa in Veneto al 7,1%, quasi 5 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. Insomma, anche nella nostra regione qualcosa sembra finalmente muoversi. Sì, è complice il fatto che le nostre imprese, che sono quelle che oggi sono vive e che hanno superato una crisi che è stata micidiale, che ha fatto una selezione durissima. Queste però hanno tre caratteristiche, esportano e quindi sono internazionalizzate, non hanno delocalizzato, hanno investito sulle loro risorse umane e hanno avuto anche molto spesso l'aiuto da parte della regione e sono riuscite a fare della innovazione al loro interno, che fosse di processo, che fosse di prodotto. La ripresa attualmente sembra farsi sentire maggiormente in alcuni specifici settori. Ti penso ad alcuni distretti. Il distretto dell'Occhialeria è quasi del tutto rientrato con il fenomeno del reshoring, cioè sono tornati a produrre in Italia, il distretto della Concia, che è pur vicentino e che ha a che fare con il nostro territorio, in generale il Made in Italy è l'agroalimentare. Le difficoltà invece permangono per altri comparti. In particolare in Veneto quelli che esportavano in Russia. L'embargo ci ha creato un danno incredibile ed in particolare nel nostro territorio il settore dell'arredo e del legno.